Il ragno fantasma, il ragno fantasma, disponibile in preordine, dovrebbe arrivare a fine estate. Controllo che è finto? No no, è finto, è finto. Porto nel realismo a un livello completamente un uomo, il ragno fantasma di Luke Hunt, ha lo whole body, sembra un buono quanto pesca, vabbè questa è la traduzione di Google. Curvo cavo sembra una rana scavata al corpo, bobole, gettero voloi, intanto ragazzi, questo ragno, bellissimi, me lo vado a comprare sicuro, subito lo compro e poi lo provo. Ho visto, il ragno l'ho ordinato, però arriva all'inizio di settembre, perciò cosa ho fatto? Sono andato in una giocattoria, qui vicino a casa, dove vendono i giocattoli, e me ne sono comprato uno molto similare. Adesso ci faccio un paio di modifiche, ci metto nuovamente un amo, e poi ragazzi, lo proviamo, testiamo sul campo, anche con mobilità, per me è sempre uguale, adesso vediamo, il ragno fantasma. Adesso faccio partire un promo video della pubblicità del ragno ghost in America, un bellissimo video, e poi faremo partire i nostri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preda Vediamo che effetto ha il ragnetto. Non dito la nessuno, non dito la nessuno. Eccoci siamo, il nostro ragnetto, la prova, andiamo lì, gli rompiamo un po' in marrone, vediamo se funziona come esca. Oggi proviamo con il ragnetto, vediamo che cosa combiniamo, ho dovuto prendere una canna lunga, perché purtroppo è affondante, abbiamo messo del polistirolo, adesso vediamo che pezzi riusciamo a prendere. L'ho già mangiato. Puttana maiala, era troppo piccolino anche questo, che taffiata che ci ha tirato. Devo avere a che fare con bassi più grossi però ragazzi, se no fa scappare da ridere. E sotto una pioggia immensa il ragno colpiva, strike ragazzi, strike! Il ragno non perdona, il ragno, il ragno, il ragno, il ragno, guardatelo bene, guardatelo bene, il ragno non perdono. Mi metto di qua così lo potete vedere meglio, il ragno, il ragno, bel pezzo ragazzi, bel pezzo. Un bel like da parte mia, il ragno non perdona anche sto giro, mi raccomando ragazzi, campanellina e segnatevi sul mio canale YouTube per vedere sempre cose nuove. Il ragno ragazzi è micidiale, se trovate quelli più piccoli fate una strage che il bus sia con voi. Ragazzi, ho agganciato non so che cosa, vado contro luce, vi faccio vedere sempre col ragno. Mi sono buttato a prendere, aspetto anche di non aver spaccato il cellulare, no, mi sono buttato sulla canna. Sì, dice che è un po' piegata ragazzi. Un po' sporca, un po' sporca. Un po' sporca, un po' sporca, un po' sporca. Un po' sporca, un po' sporca. Un po' sporca, un po' sporca. Non so cosa ho preso ragazzi. Ho un gatto? cerco di andare fuori dal riverbero è una carpa di dimensioni notevoli addirittura e con il mio ragno ragazzi il mio ragno il ragno non perdona il ragno non perdona lo vedete vero andiamo al guadino mister fantastic ancora una volta ragazzi ancora una volta full timer pesca ci riprova e poi ecco gli schietto stiglio vabbè vabbè vabbè